Io mi chiamo Berto, io ho 30 anni, io mi alleno più che posso, almeno 4-5 volte a settimana. Faccio allenamenti diversi, seguo un allenamento funzionale di tipologia crossfit e ho fatto anche arti marziali, box nailandese, quindi cerco sempre di allenarmi intensamente. Beh, in questo mese ho oltrepassato alcune fasi che mi aspettavo, che mi erano state descritte e devo dire che il mio corpo ha reagito molto bene a tutto quanto questo procedimento e devo dire che generalmente la salute è migliorata, mi trovo bene comunque. Ho notato che ho tempi di recupero più veloci e riesco a allenarmi più intensamente con meno stress a seguito dell'allenamento e i miei livelli di forza sono molto buoni, nonostante non abbia fatto allenamenti specifici ma semplici misurazioni massimali e ho ottenuto dei buoni risultati. Grazie a voi.